Ci sono alcune dimensioni professionali che potrebbero essere potenziate, alcune risorse come per esempio la capacità di conoscenza dei territori, come per esempio la capacità di interazione, di costruzione di reti, come per esempio l'acquisizione di una funzione imprenditiva nella ricerca di nuove risorse per aumentare il perimetro delle risorse del welfare. Proprio in un questionario che abbiamo sottoposto recentemente a oltre 250 assistenti sociali iscritti all'ordine regionale della Liguria è proprio emerso che gli assistenti sociali considerano al primo posto delle loro potenziali risorse le capacità progettuali e quelle di valutazione degli interventi, sia come risorsa già presente sia come risorsa da valorizzare, potenziare, per cui questa potrebbe essere proprio una direzione specifica per la Liguria.